La domanda in finale la devo chiudere, però me ne arrivano tantissime, c'è un hashtag con tante persone che ci scrivono congiunti in regioni diverse. Loro dicono ma se noi ci amiamo, come facciamo a non poterci vedere? Ed è una cosa che sta dilaniando il paese, si può trovare una soluzione a sua parere? Guardi, la soluzione è riaprire, la soluzione è ricominciare a vivere e siamo molto vicini a questo. Ora non entro nello specifico fra i congiunti familiali e residenti perché chi è residente può spostarsi già di regione e raggiungere ovviamente il congiunto, però c'è anche quell'amore che non è congiunto, c'è quell'amore che non è certificato per la legge. Riapriremo in fretta e tutto tornerà normale. Grazie a tutti voi, grazie per Paolo Sile.